Stasera tutto insieme, la vittoria, la qualificazione aiutava, il clean sheet, una prestazione importante, solida, bene. Sì, oggi è bene, volevamo questo, comunque avevamo il passaggio del turno assolutamente, volevamo non prendere golle, ci tenevamo a tornare alla vittoria con queste tre sconfitte, quindi oggi è stato fondamentale tutto quanto. Federico? Ragazzi, mi parte Paolo Cotone. Beh, parlo io, ciao Politano, questa partita chiude un ciclo particolarmente duro di cinque gare, che sono state le prime cinque gare di Mazzari, diciamo che questa vittoria salva tutto, nel senso che vi ridà una prospettiva e ora il calendario di campionato sarà meno difficile rispetto a quell'ultimo mese? Buonasera, innanzitutto a tutti. Sì, oggi si chiude un bel ciclo di partite toste, comunque da quando è arrivato il mister, abbiamo affrontato tutte le partite difficili, tutte le partite importanti, purtroppo non tutte sono andate bene, però secondo me, tranne il risultato e la prestazione, secondo me c'è stata, anche se a tanti siamo andati in difficoltà per oggi, era fondamentale vincere e passare il turno, perché era l'unica cosa che mi contava. Fabio Cabello. Ciao, complimenti per il tiro in porta, tu esco, tiravo un po' più laterale, eh? Sì, mi sta, leggermente di più. La domanda che voglio farti è quanto vi manca per essere in una squadra dell'eltrano, adesso che avete recuperato un modo di giocare abituale? Ma secondo me ci mancano i risultati, perché poi quando inizia a vincere diventa tutto più semplice, mentre magari quando non arrivano i risultati magari il rumore non è dei migliori, quindi oggi ci tenevamo a vincere, adesso in tre giorni abbiamo un'altra partita da vincere assolutamente, poi abbiamo un scontro diretto con la Roma che sarà fondamentale per il proseguire del campionato. Dobbiamo lasciarlo andare, c'è Fabio Pagliarella, voglio farti una domanda rapida, rapida? No, ma te, no, non è una curiosità più che altro. Una curiosità? Il fatto di non vincere in casa, non ho tanto tempo, mi dava fastidio, cioè è una cosa che vi portavate dentro, il fatto di non poter vincere da tanto tempo a Maradona. Sì, assolutamente, perché poi sai, il nostro pubblico è quanto è importante per noi, e quindi ci tenevamo fortemente oggi a tornare alla vittoria, soprattutto per loro, perché sono sempre pronti a darci quella spinta in più. Matteo, grazie.